Questa abbinata è con i Nail, da cosa nasce? Strana, vero? Beh, no, voi siete a supporto sempre delle aziende e delle imprese. Però potrebbe sembrare qualcosa di distante, potrebbe. Vediamo che cosa ne pensa il Cavaliere. Il progetto sicurezza, implementazione della sicurezza del lavoro, parte nel 2012, sfruttando quelli che sono i bandi Nail sulla sicurezza degli impianti per le industrie. In questo caso io ho scelto un impianto di robotizzazione per il confezionamento, significa per mettere dentro i cartoni, le lattine, i barattoli, tutto quello che avviene come ultima fase di lavorazione. Ho scelto appunto il robot, perché ho ritenuto che soltanto il robot potesse dare un elevato standard di sicurezza al lavoratore, evitando di fare movimenti, piegarsi, chinarsi. Parliamo di centinaia e centinaia di volte durante l'ora, e quindi pensiamo che c'erano ben quattro lavoratori che andavano sempre, io dico, in tilt per questi problemi di posture. Abbiamo scelto appunto il robot perché consente di fare questo senza praticamente interferire con il lavoratore, in quanto attorno all'isola abbiamo costruito un'isola robotica, cioè praticamente un'isola che completamente tiene distante. Grazie. Grazie.